così doveva essere e così è stato argentina campione del mondo leo messi che raggiunge finalmente diego armando maradona freggiandosi anche lui del titolo di campione mondiale giusto così dicevo perché l'argentina ha dominato per almeno 75 minuti poi un po da polli hanno permesso alla francia di rientrare in partita francia trascinata da uno scintillante spettacolare direi disumano ma nel senso positivo del termine mbappé che segna tre gol e avrebbe persino la possibilità di rubacchiarla di sgraffignarla questa coppa del mondo la squadra di deschamps perché all'ultimo secondo dei supplementari colomo e lui si ritrova da solo di fronte ad emiliano martinez che però è straordinario gigantesco e gli respinge la conclusione anche lautaro poi sul ribaltamento di fronte ha un'occasione mica male ma meno netta di quella di colomoni detto ciò un'argentina che ha strameritato di vincere questo campionato del mondo un'argentina che era la mia favorita fin dall'inizio quindi anche questa volta chantel non sbaglia diciamo che è veramente raro che chantel sbaglio possa sbagliare e poi insomma alla faccia dei miei connazionali francesi con cui sapete io non ho un buonissimo rapporto erano stati i campioni del mondo quattro anni fa si possono accontentare del resto sono arrivati secondi quindi comunque un traguardo di tutto rispetto però l'argentina ha meritato strameritato sono stati più affamati più cattivi su ogni pallone e soprattutto hanno ripeto dominato per 75 minuti grandissimo di maria che fa la differenza con l'albiceleste e invece nella juventus sembra un cadavere chissà perché perché lui si è rifiutato di impegnarsi con la juventus si è riposato per arrivare a questa partita alla finale di stasera nella forma migliore possibile nella condizione migliore possibile e ha fatto la differenza con il rigore procurato con un gol e comunque con una partita davvero di livello superiore così come messi che segna una doppietta realizza il suo rigore nella lotteria dei dei penalty e corona quello che era il suo sogno vince l'unico trofeo che ancora gli mancava nella sua straordinaria carriera e soprattutto arriva al livello di di maradona se non a 360 gradi come calciatore perché credo che maradona rimanga comunque superiore almeno sul piano del della vittoria di un mondiale che diego aveva fatto suo e a messi ancora mancava e poi dicevo di imbappé straordinario stratosferico rabbio è tornato quello della juventus cioè dei tre anni precedenti a quest'ultimo inizio di stagione non mi sorprende per niente quindi se deve andare che vada mamma vero nick vada a chiedergli a qualcun altro 10 milioni di euro netti a stagione suameni tradisce perché sbaglia il il rigore comanda altrettanto e poi caro de champ ma invece di sostituire tembere al quarantesimo ma non potevi semplicemente lasciarlo in panchina e non farlo giocare perché insomma la la francia fino a che c'è stato tembere in campo ha giocato con uno in meno e uno in più per l'argentina perché lui che ha regalato di fatto il rigore che permette a messi di sbloccare il risultato vabbè comunque insomma de champ rimane un campione del mondo ha comunque guidato la francia a un'altra finale sfiorato un altro successo adesso può alzarsi da quella panchina e fare altro complimenti invece a scaloni nessuno gli avrebbe dato due lire e invece lui è il terzo tecnico argentino campione del mondo con pieno merito